dai dai tuo sul tappeto per la categoria più 95 per i programmi corino alessandro roma nutrica alberto si preparano gatto alessandro padova cincarosa la voletta di cura noi cassino cincarosa gira dai 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 mamma mia c'è marco su la c'è marco su noi hanno dato che ne è andato così come l'anno è tipo colato non è no dov'ho mi piace ma non so ma non so non so che ci sono 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 Vai, va, gaccia! Ciuda! Gira! E quale coraggio voglio chiedere? Certo, quale coraggio! Almeno uno cazzo, io lo danno Come fai a provarci? Ho provato a provarci a Davide Ma poi se si rialza su cazzo Non ho provato niente Spamori Tavoletta Nicola Nicola Non lo so, guarda, avendo più ormai che io Mi ho prospesso con le domande Mi hanno detto vabbè Non c'era una città Non c'era una città Un po' così 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 vedo qua esce paraplegico questa è una cammina quinta proiezione ragazzi non sta umiliando per me gli hanno rivolto agli occhi mi ha detto che tu ci sceglie no esatto mi sono risparmi tanto questa potrebbe eliminare a questo punto un po' più proiezione vedo, non vedo questo si questo si come faccio io prova per chi sta piegando per il meme oh dio non vede buono ma che fa rumbo del buono li fa rumbo del buono adesso qui mi spurti il ragazzo ma non lo chiediamo ma non lo chiediamo ma non lo chiediamo corca quasi da quasi purello mamma mia se non mi metti mi metti la cassa